amici della Lepre Group bentornati alla rubrica sul calcio bentornati alla rubrica sulla serie A quanti rimpianti Napoli Napoli 6 sa solo uno una partita incredibile quella che abbiamo visto sabato pomeriggio al Maradona pochissimi gli spettatori presenti nell'impianto di fuori grotta chiaramente era una protesta per gli azzurri che avevano perso sette giorni prima in maniera incredibile ad Empoli contro la squadra toscana gli azzurri vanno vanno in vantaggio subito raddoppiano incredibilmente dopo 20 minuti il Napoli è in vantaggio contro il Sassuolo per 4 a 0 poi la partita chiaramente scema e poi termina sul sul 6 a 1 davvero incredibile un punteggio assurdo ma è un Napoli che deve fare deve fare mia colpa perché lo abbiamo detto tante tante volte il Napoli non era inferiore né all'Inter né al Milan sono queste le squadre che si giocheranno lo scudetto 2021-2022 nelle ultime tre partite la cosa incredibile che se andiamo a vedere la classifica il Napoli è ancora in gioco per lo scudetto ma chiaramente diciamo che tra virgolette i giochi sono fatti servono due punti al Milan per diciamo agguantare la quota scudetto e chiaramente il Napoli non non ce la può fare il Napoli è terzo deve blindare questa posizione e la notizia comunque è che il Napoli raggiunge dopo due anni di nuovo la Champions League unica squadra unica società in 13 anni consecutivi a raggiungere un piazzamento europeo su questo dobbiamo parlare assolutamente bene della società sportiva calcio Napoli per quanto riguarda questa stagione tanti sono i rimpianti caro Napoli potevi arrivare a questo scudetto ora si faccia tesoro degli errori che hai fatto per ripartire a luglio in un nuovo ritiro a Di Maro e a Castel di Sangro per ripartire ancora con Spalletti per ripartire questa volta per vincere il tricolore Napoli hai bisogno di una grande vittoria l'anno prossimo Massimiliano Albino per la Lepre Group se il video ti è piaciuto lascia un mi piace iscriviti al canale e clicca sulla campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato